Noi che abitiamo al Nespolo abitiamo solo a due chilometri dalla prima cerchia muraria di Pistoia e nonostante questo è assolutamente pericolosissimo raggiungere il centro con biciclette e assolutamente da evitare andare a piedi. Una delegazione di residenti si è fatta portavoce di una situazione che va avanti da troppo tempo. La via provinciale pratese, in particolare nel tratto che va dal circolo ricreativo del Nespolo fino a Pistoia, continua ad essere molto pericoloso, soprattutto per ciclisti e pedoni. Manto stradale dissestato, buche profonde, scarsa illuminazione, mettono costantemente a rischio chi transita su questo tratto di strada. Carenza di sicurezza per la strada sia dal mantenimento del manto stradale che a un'assenza di segnalazioni del pericolo. Percorri ogni giorno questa strada, spesso in bicicletta, ti senti abbastanza in pericolo. Da tanti anni noto che è pieno di buche, che si allaga molto velocemente quando piove un po' più forte e che le macchine vanno anche parecchio forti. In bicicletta a piedi è molto pericoloso. Il sottopasso è pericolosissimo perché va fatto a corsa, proprio perché si rischia di essere presi da delle macchine. E poi soprattutto c'è il problema delle buche, specialmente all'altezza di dove abito io, che è circa un chilometro da qui. La strada nel mezzo è completamente piena di buche. Questo è il punto sicuramente più pericoloso dove le macchine spesso per scansare le buche che ci sono nella strada devono andare nell'altra corsia e diventa molto pericoloso per chi si muove a piedi o in bicicletta perché c'è il rischio di essere investiti. Se non sbaglio anche a velocità molto sostenuta. Sì, e poi un altro grosso problema è che spesso c'è delle macchine che vanno troppo forti. Ho visto fare anche tre o quattro sorpassi consecutivi, quindi ovviamente invadano completamente l'altra corsia e diventa ancora più pericoloso. Un appello alle autorità cittadine. Credo che la strada, se non sbaglio, sia ora del comune, questa parte qui. Quindi riguarda i lavori del comune. L'appello va rivolto a loro. Io mi faccio anche interpreta un po' di tanta gente che viaggia in bicicletta e va verso Pistoia. Il problema esiste. È difficilissimo, voglio dire, percorrere questa strada per le buche. Poi è pericoloso, ma veramente pericoloso. Ci sono dei punti che, appunto, sotto il ponte della ferrovia, prima del ponte della Brana, ci sono delle restrizioni che lì ti schiacciano, ti asfaltano, insomma, come cartoni animati. La differenza è che noi non si rigonfia.